Benvenuti o bentornati qua all'interno del mio canale, un video che vi consiglio assolutamente di vedere, infatti oggi programmerò a tavolino con il software DroneLink 4-5 missioni per il Mavic Mini e saranno tutte su un castello per provare poi a creare in volo automatico programmato e studiato delle clip cinematografiche. Prima di iniziare le soliti cose, un like sarebbe davvero fantastico e se non siete iscritti vi aspetto qua all'interno della mia community. Ormai lo sanno anche i muri che l'SDK con il Mavic Mini non può fare con il firmware le funzioni che più desideravamo, ovvero il Wi-Point e anche l'AftilTrack. Se volete capire tutto su questo argomento vi consiglio di guardarvi questo video qua sopra, che vi metto sopra nelle schede e vi chiarirete un po' le idee. Dunque ci viene però incontro con il suo software per Wi-Point DroneLink che in pratica fa in modo che sia l'app a pilotare direttamente il drone. Un po' di giorni indietro vi avevo già presentato questa applicazione, questo software, vi lascio nelle schede anche questo sopra il link se volete andarvelo a vedere. In breve cosa facciamo? Usiamo il pc o il mac per programmare la missione scegliendo la zona, i punti di percorso, i punti di interesse, le inquadrature e molto molto altro. L'app è davvero molto molto completa. Allora adesso cosa faccio? Mi metto all'opera e creo 4-5 percorsi su di un castello nel comune di Asciano nella provincia di Siena qua vicino a me, pensando a dove far passare il drone, cosa fare inquadrare e altro. E poi mi organizzo per andare in questa località e farò decollare ovviamente il mini vicino ai punti decisi grazie all'app installata sul mio smartphone, caricando i file che ho creato e studiato con il mio computer. Successivamente poi in post produzione prenderò le scene che più mi soddisfano e farò un bel editing. L'obiettivo è creare con questa app e il Mavic Mini un video cinematografico. Bene, mi metto all'opera e inizio a crearmi tutti i percorsi con il mio computer. Fatto! Ora non mi resta che farmi una bella gita con camminata inclusa per vedere cosa ho combinato qui a tavolino. Per cui usciamo e andiamo a vedere cosa ho fatto. Bene, siamo arrivati, sono pronto per volare sul castello. Abbiamo fatto tutta la programmazione, 4 chilometri a piedi, caldissimo e ora ci deve pensare che dono i link e lui a farmi le riprese che ho impostato ovviamente a tavolino. Facciamolo decollare. Facciamolo decollare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.